Sì, abbiamo discusso con i partiti della maggioranza e abbiamo confrontato le varie opzioni e c'è stata una convergenza di tutti, un consenso su questo modello. Tutti noi sappiamo che è un primo intervento che risolve tutti i problemi, però è un intervento importante. Sappiamo per esempio che tutti i percettori degli 89 sono 100 euro, sappiamo che è un'aggiunta importante, ma è una cifra limitata, ma tuttavia pensiamo che era giusto dopo vari anni di questo primo importante provvedimento portarlo a 100 euro. E poi c'era un tema di antilavoratori con redditi che sono comunque bassi, che il provvedimento non aveva potuto coprire e che noi andiamo a coprire. Quindi delineiamo una prima tranche di interventi sul lavoro che è importante e che entrerà in vigore da 1 luglio e sarà poi a regime, ma confluirà in una più ampia riforma fiscale a cui stiamo lavorando e che stiamo discutendo. La legge del legato aprile? Questo è l'obiettivo che ci siamo dati, naturalmente vogliamo fare le cose fatte bene, quindi con serietà, discutendo, ragionando, andremo avanti in un'azione di governo che sta dando i primi frutti e risultati concreti. Decreto entro fine mese? Speriamo di sì.